La coccente sconfitta interna con la vastese ridisegna l'organico tecnico del Matelica che si affida ad un maestro di origine e di cuore teatino, Antonio Mecomonaco, costretto a vedere la gara in tribuna a causa di una squalifica della passata stagione. Fortemente motivato per rilanciare i colori bianco-rossi recentemente sbiaditi, il neotecnico si affida al rientro dell'ex nero-verde Vittorio Esposito. Dirigenza marchigiana ancora con gli occhi rivolti allo spettacolo della inaugurazione del nuovo campo sportivo, mentre quella teatina, più volte in settimana sollecitata telefonicamente dal sindaco Umberto Di Primio per un colloquio chiarificatore, indugia e si interroga su come ricomporre la situazione che vede la compagine di Mariani sempre più abilita. Se l'attuale atmosfera calcistica della città teatina è annebbiata, quella sociale e culturale registra una pagina buia per l'atroce delitto di sette giorni fa che ha interrotto la vita di Fausto Di Marco, disincantato musicista i cui sentimenti, puri e nobili, restano scolpiti nei cuori di quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato per le sue iniziative ed esibizioni artistiche. E' stato ricordato anche il difensore Cristiano Pappalardo, che ha vestito la maglia neroverde negli anni 90, la cui vita è stata stroncata da un traumatico, violento episodio. Il signor Luciani dà l'avvio ed appena il tempo di incrociare le marcature in campo che il Matelica va in vantaggio, con un insistito e tenace traversone di Boldrini, corretto in rete dal nostalgico Vittorio Esposito. Ennesima furia per Mariani, sempre più consapevole delle disfunzioni difensive che i neroverdi evidenziano di partita in partita. A volte appaiono attoniti ed impotenti, benché volenterosi di guadagnare la zona offensiva, come al ventesimo, Genovese, che ci prova ad indirizzare verso l'estremo bianco-rosso Marcantonini. I marchigiani capiscono che la gara è in discesa, non strafanno ma sono cinici nell'approfittare delle amnesie dei locali che subiscono la seconda rete con il classico contropiede. Al venticinquesimo, con Pera, che si ripete tre minuti più tardi ma su calcio di rigore, fallo di trozzo sul funambolico Vittorio Esposito e l'attaccante ospite realizza. I pochissimi spettatori, per lo più parenti ed amici di famiglia, incoraggiano teneramente i ragazzi neroverdi che ce la mettono tutta per limitare i danni. Il secondo tempo inizia con l'ingresso di Faccini al posto di Ceccarelli. Il neoacquisto teatino, al terzo su calcio di punizione, impegna severamente Marcantonini. Poi al sesto Zeetti chiama l'intervento di chiusura da parte dell'estremo marchigiano. Al decimo Mariani richiama Botticini, spazio ad Alessandroni. La manovra offensiva dei neroverdi crea qualche disagio, ammortizzato senza affanni dai biancorossi che presidiano gli spazi nevralgici della manovra, bravi a ripartire e a cercare in velocità Pera che al diciannovesimo si invola. Mecca si oppone con autorevolezza. Nell'ultimo quarto d'ora ancora sostituzione dei locali. Fuori Genovese, dentro Perna. Di seguito anche gli ospiti sostituiscono Baldinini con Galli. Al trentesimo impennata dei ragazzi di Mariani che dimezzano lo svantaggio con Alessandroni. Applausi di stimolo per i teatini. Malennesima punizione dietro l'angolo. Galli arrotonda il punteggio dei marchigiani. Quattro minuti di recupero per decretare la prima vittoria degli uomini di Antonio Mecomonaco. Confortare Faiella per l'infortunio e congedarsi dallo sparuto pubblico. Sicuramente i risultati non ci danno ragione a niente. Purtroppo questa è una squadra molto molto giovane. È inutile dirlo che ha bisogno dei suoi tempi logistici purtroppo per maturare. La sfortuna ha voluto anche che abbiamo preso le prime sedi della classe. Ciò non ci è agevolato tanto. Però questo qua non è un alibi assolutamente. Anzi, noi siamo qui, ci metteremo sempre la faccia e daremo sempre il massimo nei nostri limiti. Sicuramente non molleremo niente perché non esiste. C'è proprio nel mio DNA e credo anche in quello dei miei compagni. Non c'è niente da fare un passo indietro. Quindi credo che da adesso in poi continueremo a dare di più. Stiamo dando il massimo. Il massimo non sta bastando. Significa che dobbiamo fare di più. Indipendentemente dal più piccolo al più grande. Io sono un classe 89. Sono giovane, tra virgolette. Però sono anche il più anziano della squadra. Ciò non giustifica che siamo giovani e dobbiamo deporre le armi. Anzi, io penso che quando si è giovani bisogna avere la forza in più per dimostrare che ci sia il futuro. Io sono arrivato in settimana e non so bene come era la mentalità prima. Ma credo che ogni giocatore che è venuto a Matelica sa che l'obiettivo è quello lì, di vincere il campionato. Sicuramente ci sono anche dei ragazzi giovani e non è facile ambientarsi subito su un campionato per fare un campionato di vertice. È vero, non dovevo giocare. Poi alla fine purtroppo Daniele si è fatto male al polpaccio e ho giocato io. Il primo gol mi ha dato una palla larga a mano. Ho puntato il terzino e l'ho messa in mezzo. È stato bravo Vittorio a tagliare sul primo palo e far gol. Non era assolutamente la nostra mentalità mollare o comunque lasciarla così per il secondo tempo.